bene amici di telefono.net stiamo girando questo video dall'Alcatel Idol Ultra video che viene girato a 720p c'è il fuoco continuo, pan veloce, contro luce inquadriamo la nostra classica antenna, torniamo a luci normali ora torniamo velocemente alla via e proviamo a zoomare zoom ovviamente digitale, ripeto video che stiamo girando con Alcatel Idol Ultra a una definizione di 720p